Credo che mai come quest'anno si rischi di essere ripetitivi, ovviamente in negativo, nel dover commentare le partite dell'Inter. Perché questa è un'altra partita come tante partite abbiamo visto quest'anno dell'Inter, io potrei tranquillamente caricare un altro video, un video che ho già fatto, cambiare semplicemente il logo della squadra avversaria, mettere la Serna e Tana, che sarebbe l'analisi perfetta della partita di oggi. Una partita che tra l'altro io, per correttezza nei vostri confronti, per sapere, per essere preparato e sapere di cosa parlo, mi sono rivisto indifferita su DAZON. Quindi una partita dove non siamo capaci di chiudere una gara. Non siamo capaci di mettere la gara nella giusta direzione, da sblocchi. Poi hai un'infinità di occasioni per chiuderla, perché la Serna e Tana in casa fa un tiro e mezzo verso la nostra porta. La traversa di DAZON nel secondo tempo e poi il cross, perché di quello si tratta, di Candreva, che diventa un tiro imparabile che va a finire all'incrocio dei pali sul secondo palo di Onana. Una parata, un tiro che nemmeno il miglior Buffon, il miglior Neuer, il miglior Cloutois, il miglior Allison, dite chi volete voi, avrebbe mai preso. Ma la beffa sarebbe potuta arrivare in qualsiasi altro modo. Certo così fa male, che un tiro clamorosamente, un cross clamorosamente sbagliato, soprattutto da Candreva, che ogni volta che gioca contro di noi, anche quando era a Lazio, ci purga, fa sicuramente molto più male. Ma poteva arrivare in qualsiasi momento. Poteva arrivare con un calcio d'angolo, poteva arrivare con un tiro da fuori deviato, con una rimessa laterale, con un autogol. Poteva arrivare in qualsiasi momento. Perché se tu le partite non le chiudi, se Lukaku per la seconda partita di fila, con la testa praticamente sopra la riga di porta, con la testa sopra la riga di porta, riesce, nell'impresa, di mandare la palla a sbattere sotto la traversa e farla uscire, credo che non c'è nulla da dire. Cosa vuoi analizzare? Quello era il 2-0. Quando l'ho rivisto prima, non ci volevo credere. Mettiamoci che poi Ochoa sempre in quell'azione fa una grande parata. Il portiere fa parte della squadra, quindi il portiere fa miracoli. Evidentemente il tiro che hai fatto non è poi così pericoloso. È un tiro che poteva finire in porta, ma lui comunque fa una bella parata. Ma il tap-in di De Vrij, mi pare, o di Acerbi, sulla traversa disarmante di Lukaku, non era così forte. Mettiamoci Dottoro Martinez, che è lanciato a campo aperto, a campo aperto, praticamente a tu per tu col portiere, anziché convergere verso il centro e prepararsi il tiro con il destro, decide di tenere la sinistra, quindi facendosi di fatto recuperare dal difensore, quindi non tagliandogli la strada, facendosi recuperare dal difensore e una volta in aria, con lo specchio ormai chiuso, decide comunque di tirare in porta con un pallonetto, che era tutto fuorché un pallonetto, anziché magari pensare solo di tornare indietro e provare a difenderla. Magari arrivava un compagno a rimorchio. Un tiro così giusto per divertimento, manco fossimo sul 5-0 o sul 3-0. Quindi il pareggio della Sanitana arriva con un cross beffa, un tiro beffa, ma ripeto, era nell'aria, era nell'aria. Perché quando tu ti mangia tutte quelle azioni, in un momento in cui la squadra si vede che è fragile, in un momento in cui la squadra si vede che non è capace di difendersi, diciamo così, passate di mettermi all'arba bianca, con la squadra avversaria che è sotto solo di un gol, manca sempre meno alla fine e giustamente l'allenatore, in questo caso Polososa, butta dentro punte a strafottere, butta dentro punte a nastro per cercare l'occasione, per cercare la giocata vincente e tu sei costretto a difendere praticamente nella confusione totale, perché in quei momenti là può succedere veramente di tutto, non solo non prendi gol da una punta, ma prendi gol da uno che calcia, che se ci riprova altri un miliardo di volte, con la palla a lì a ricrocio, non ci va. Ma comunque avremmo rischiato il pareggio, perché se tu la lasci in bilico solo 1-0, giochi con la caghetta, con la merdina nelle mutande e finire l'ultimo secondo. E sappiamo benissimo che l'Inter in questo momento sicuramente non ci gira bene, ma soprattutto non siamo una squadra forte dal punto di vista mentale, non siamo una squadra che è capace di chiudersi e non prendere gol, a differenza di altre volte, degli anni scorsi perlomeno. Quindi, ripeto, l'analisi di questa partita è esattamente la stessa di altre partite, perché se tu comunque a Torino la prestazione l'hai fatta e giustamente non hai perso, perché come ho detto nei video post-Inter-Juve, post-Juve-Inter, scusate, di Coppa Italia, l'Inter non meritava di perdere, anzi, oggi l'Inter meritava di vincere, perché le azioni le ha fatte, il tuo demerito è quello di non chiudere la stessa partita, e se non la chiudi, mi viene quasi da dire, è giusto che tu non la vinca, perché come si può solo pretendere di andare in Champions League entrando tra le prime quattro, se non riesci a battere la sernità da quando hai avuto sei, sette occasioni clamorose, come pensi di andarci? Come pensi di andarci dopo aver fatto, dopo che sono sei partite che non vinci, sei partite che l'Inter non vince, o che perde o che pareggia? Come pensi di andarci? Fortuna vuole, fortuna vuole che stasera il Mielo non abbia vinto, pareggiato in casa con l'Empoli, fortuna vuole che domani c'è uno scontro diretto, Lazio-Juve e diciamo che una dei due potrebbe perdere punti o magari potrebbe venire fuori un pareggio, ma comunque la Lazio rimane, anche in caso di sconfitta, comunque rimane a più quattro in questo caso, nel caso di una sconfitta. La Roma va a Torino col Toro, non sappiamo che partita verrà fuori, il Toro è una squadra diciamo impronosticabile, può farti il partitone, può prendere quattro pere, quindi diciamo che almeno la prima squadra che giocava subito dopo di noi, delle zone della Champions League, è rimasta lì, non ha vinto. Quindi diciamo che possiamo ritenerci soddisfatti almeno del Milan, vedremo cosa succederà. Ma una squadra come l'Inter ad oggi dovrebbe essere già in Champions League o dovrebbe esserli lì per andarci, senza problemi, senza sudarci, senza sudare, scusate. Ecco perché quando io dico scommetteresti un euro sull'Inter in Champions in campionato, io vi dico di no. Perché oltre a non meritarlo, secondo me, in questo momento, io non vedo quella scintilla che pensavo potesse esserci dopo la partita di competizione con la Juventus che ti fa diventare cattivo. Perché tu, il gol che hai mangiato oggi, che Scherentes hai mangiato oggi, tolte un paio di parate veramente da grande portiere di Ochoa, l'Inter non ha cattiveria. Quando gioco contro queste squadre qui, non ha la rabbia, non ha il fuoco dentro, non bolle il sangue, come ho detto dopo la partita con la Juventus Coppital, lì sì, il sangue bolliva e si vedeva. Qua è una partita che, beh, la sblocchiamo subito e poi mille occasioni e non segni. Di che cosa vogliamo parlare? Cioè, dal punto di vista, vogliamo discutere dei cambi di Inzaghi? Discutiamo dei cambi di Inzaghi? Perché ha messo Gagliardini? Sono d'accordo con voi, se qualcuno lo pensa. Un giocatore che non è più dell'Inter da mesi, ormai, perché non rinnoverà, perché lo butti dentro? Perché mi togli barella, che stava facendo comunque una buona partita? Poi è ovvio, non è colpa di Inzaghi se Lukaku si mangia quel gol clamoroso con la Fiorentina, se ne mangia un altro clamoroso oggi, se Lautaro Martinez che non segna da otto partite non è cattivo, non arriva davanti alla porta e tira una cannonata per spaccare la porta. Non è certo colpa di Inzaghi, lui ha altre colpe. Però sa di fatto che alla fine si è sempre qua a dire e Inzaghi cambi, e Lukaku che sbaglia i gol, e Lautaro Martinez che molle, e quello che sbaglia l'appoggio, quello che sbaglia qui, quello che sbaglia lì. Ripeto, potevo caricare un video di un'altra partita e anziché mettere il logo, che ne so, dell'Empoli, mettere il logo della Sear di Etana. E l'analisi sarebbe stata quella. Comunque, signori, come vi avevo promesso, il video l'ho fatto, anche se la partita, ripeto, non l'ho vista in diretta, ma l'ho vista dopo, perché io non mi sottraggo comunque dalle mie, diciamo così, chiamiamole responsabilità, in questo caso, di commentare l'ennesima partitaccia dell'Inter. Questa stagione sta diventando uno strazio. Questa stagione sta diventando uno strazio per meno in campionato, ma, come ho detto, una squadra come l'Inter ad oggi dovrebbe già essere in Champions League. E di certo la stagione dell'Inter non può ridursi a un terno all'otto sperando nel miracolo in Champions League. Perché di miracolo si parla. Quindi, se l'Inter non va in Champions League e mi vince anche, mi dovesse anche vincere la Coppa Italia dopo aver vinto la Supercoppa, io vi dico quello che ho detto qualche video fa, è quello che ho sempre detto gli anni passati, quando, per esempio, il Milan vinse la Coppa, la Supercoppa con la Juve, e arrivò settimo in campionato. Se l'Inter non arriva tra le prime quattro, la stagione è fallimentare. Perché la Coppa Italia e la Supercoppa, se tu non l'abbini, perlomeno, come ho già detto, a una qualificazione a Champions, la stagione è fallimentare. Perché non ti portano soldi. A meno che non ci sia, di questo poi magari parleremo, quando magari avrò letto qualcosa di un po' più concreto, a meno che non ci sarà, non ci sia un cambio di proprietà, allora, lì vedremo, ma se l'Inter non va in Champions League, io credo che è una squadra che c'è quest'anno, difficilmente la rivedremo così com'è, molto difficilmente. Però, la stagione non è ancora finita, la zona Champions è ancora lì, alla nostra portata, abbiamo una partita, abbiamo una partita più importante dell'anno, martedì, e vedremo, insomma, ragazzi, vedremo perché, ripeto, è l'ennesimo strazio, l'ennesimo, l'ennesimo strazio, perché non si può, insomma, non si può. Comunque, noi ci vediamo, dopo Benfica-Inter, non dico niente, non diciamo niente, e vedremo, di che Inter saremo qui a parlare. Per il momento, vi saluto, ringrazio tutti quelli che sono iscritti, tutti quelli che mettono like, tutti quelli, insomma, che guardano i video, veramente, veramente, grazie. Vi saluto, e ci rivediamo, appunto, dopo Benfica-Inter, ma prima di salutarvi, come sempre, forza, forza, forza Inter.